Musica Sabato 15 gennaio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Quest'oggi dai quotidiani nazionali la partita del Quirinale che si gioca tutta nei prossimi giorni, ricordiamo che il 24 gennaio ci sarà la prima votazione e allora il centrodestra per il momento mette il nome di Silvio Perlusconi alla ricerca di quei voti necessari per essere eletto. Questo è l'argomento con cui aprono tutti i quotidiani ma poi si parla di carobollette, lo vedremo, una manovra del governo per poter alleviare i costi energetici di imprese e famiglie. Chiaramente il punto della situazione anche sulla pandemia con finalmente l'indice di contagio che sta iniziando ormai in maniera importante a decrescere. Dalla regione Umbria, l'Umbria è e resta in zona bianca perché anche qui insomma la pandemia in realtà ha numeri che non stanno creando affollamenti nelle terapie intensive. Dunque seppur la situazione da attenzionare è una regione che sta reagendo alla nuova ondata pandemica ma chiaramente non solo di questo parleremo anche di un brutto caso di omofobia che viene denunciato da un diciottenne. Andiamo allora nel dettaglio a vedere le prime pagine dei quotidiani. Questa che vi presentiamo è la pagina del dorsor nazionale della nazione. Come vedete il titolo è come anticipato sul Quirinale. Berlusconi candidato in stand by, il centrodestra dopo il vertice sul Quirinale, dice è la personalità giusta, sciolga la riserva. Chiaramente c'è anche la notizia di spettacolo per l'imminente festival di Sanremo e poi però dall'Umbria come anticipavamo Bulli, omofobi, pesanti insulti a un diciottenne sempre dal dorso nazionale della nazione. Che cosa fa l'estero in tema di pandemia? Mascherine all'aperto per molti sono inutili e allora Londra e Parigi aboliscono il provvedimento. Ancora per le pagine dal dorso sempre nazionale della nazione, peste suina SOS export ma la carne è assolutamente sicura. Il dorso nazionale del messaggero che titola sul caro bollette e allora ecco il piano Draghi, prelievo sui extra profitti delle imprese idroelettriche per aiutare famiglie ed attività. Già la prossima settimana arriveranno due miliardi e mezzo per poter nuovamente di più alleviare il carico dei costi dell'energia. La partita del Colle, il centrodestra candida Berlusconi e poi l'oltraggio di Rigopiano, cinque anni ancora senza giustizia. Ieri anche l'addio a Roma con i funerali di Stato per il giornalista e politico Sassoli, l'abbraccio di Roma, anche il presidente Mattarella ieri ai funerali. E poi dal mondo della pandemia cambia il metodo di contare i positivi. Per i medici è un errore ma il governo apre alla proposta delle regioni di non conteggiare tra i recovery covid quelli che sono di fatto degli asintomatici. Ancora se queste sono le testate nazionali andiamo a vedere i titoli principali dei quotidiani, sempre nazionali. Questo è il messaggero, la corsa al Quirinale, il centrodestra va da il via libera a Berlusconi candidato. Ora ci porti i numeri. Lega e Fratelli d'Italia formalizzano l'investitura ma l'ex premier non scioglie la riserva. Dice correrò solo se avrò la certezza dei numeri. Chiaramente questo crea come dire nell'altra parte del mondo politico delle perplessità. Il PD non crede all'ipotesi CAV ma se va al Colle subito urne a parlare è letta. Dunque il PD che si dice deluso e preoccupato di questa candidatura di Berlusconi al Colle. Conte e il leader Demme dicono il presidente non sia un capo di partito ma un nome terzo. Intanto come dicevamo la scaletta per il Quirinale è già stata scritta. La prima convocazione, la prima chiamata, le urne è per lunedì 24 gennaio alle ore 15. Ci sarà la prima chiama per l'elezione del capo dello Stato. Si farà una chiama al giorno a causa della pandemia. Quanti voti servono per essere eletti presidente della Repubblica? Per le prime tre votazioni serve un quorum dei due terzi del Parlamento. Quindi parliamo di 672 voti su 1.009 disponibili. Poi dalla quarta votazione ne basteranno 505. Chiaramente partecipano anche i delegati regionali. Allora dalla regione Umbria, chiaramente che è quella che ci interessa, i delegati per l'elezione del presidente della Repubblica saranno Donatella Tesei, chiaramente presidente della regione, in quota Lega, Fabio Paparelli in quota PD, Marco Squarta in quota Fratelli d'Italia. Questo per la politica. Ieri ci sono stati i funerali di Stato a Roma per Davide Sassoli, Roma capitale d'Europa. Ieri c'erano anche per la cerimonia la von der Leyen e Sanchez. I leader della UE si sono presentati a salutare il feretro del ruolo ormai ex presidente. La bara era coperta, come vedete, dalla bandiera europea. E poi, velocemente, la pandemia, l'infografica, in qualche modo, ci aiuta a capire che stiamo migliorando, feste finite, voglia di casa, la discesa è cominciata. Guardate, infatti, l'infografica che ci può, in qualche modo, dare il senso di che cosa sta accadendo. La striscia blu che vedete, ovvero questa qui, indica l'R con T, ovvero il famoso indice di contagio. Come vedete, il picco si è raggiunto tra il 28 dicembre, quindi diciamo tra Natale e Capodanno. Poi, dal 28 dicembre, la discesa è stata continua e anche abbastanza repentina. Attualmente la situazione è assolutamente sotto controllo, seppur chiaramente siamo ancora in una situazione pandemica, ma siamo scesi sotto i livelli di guardia o quantomeno i livelli di maggiore preoccupazione. Il picco è arrivato prima del previsto, anche grazie ai tanti vaccinati, questo dicono gli esperti. Intanto le regioni hanno chiesto al governo di conteggiare in maniera diversa il numero dei ricoveri. Il governo pensa di accettare la proposta delle regioni, il Comitato Tecnico Scientifico e i medici però non sono d'accordo. I governatori chiedono di considerare non malati di Covid quegli asintomatici che sono in ospedale. e sono il 34% del totale, quindi insomma è un numero davvero importante. Intanto Omicron, che però è meno letale, sul classa Delta, che è più letale, queste sono le varianti del Covid. Attualmente in Italia l'Omicron, la variante Omicron, è all'81%. Quanto alle regioni, vedremo tra poco che l'Umbria è rimasta bianca, ma la Campania è diventata gialla, Aosta è diventata arancione. E poi ancora una notizia che vi sottopongo, la peste suina, se ne abbiamo molto parlato anche nel nostro telegiornale, perché chiaramente gli allevamenti, la suinicoltura è molto diffusa in Umbria. E allora la peste suina trema l'export italiano, non ci sono rischi per l'uomo. C'è stato questo caso che è stato isolato in Alt'Italia, nessun altro contagio attualmente individuato, ma ora c'è la paura della psicosi degli altri paesi europei che potrebbero bloccare la carne proveniente dall'Italia. Ricordiamo che la peste suina non si trasmette agli uomini. Ancora andiamo alle pagine regionali. Questo è il dorso del Corriere dell'Umbria, dunque siamo a casa nostra. L'Umbria resta in zona bianca, l'indice R-T è allo 0,90, terapie intensive sotto controllo. La regione ottiene 40.000 dosi Pfizer per accelerare il piano delle vaccinazioni. A Perugia c'è il bar che gioca anche sulle parole e offre il gym pass. E poi andiamo a parlare di cronaca, siamo a Giove. Prosciuga è il conto corrente dell'amica disabile, viene denunciata dai carabinieri una 73enne di Giove. A Perugia 7 milioni per salvare Monteluce. A Foligno, lo leggeremo tutto chiaramente nelle pagine locali, il progetto esecutivo approvato per la palestra di Viale Marconi, a città di Castello. La città piange, il preside Polenzani, chiaramente anche questo lo vedremo nelle pagine locali. Vi segnaliamo per lo sport, Ascoli scatenato, Ternana sconfitta, liberati 2 a 4. Questo era il dorso del Corriere dell'Umbria, andiamo al dorso regionale della Nazione. E allora la cronaca in primo piano, 18enne insultato perché gay, dopo ripetute aggressioni sui social, trova la forza di reagire. L'associazione Ofalo Onfalos, le istituzioni devono assolutamente intervenire. Come abbiamo visto, a Giove, quindi siamo nel Ternano, una vedova di 73 anni, sottra un tesoro all'amica disabile. Ad Assisi c'è un intruso nel mio giardino, un ladro viene bloccato dalle forze dell'ordine. La fotonotizia ci ricorda che l'Umbria è restata bianca, ovvero non preoccupa e quindi non fa scattare l'allarme la pandemia. Ospedali però in affanno perché di fatto ci sono molti sanitari che sono finiti in quarantena, esattamente 551 e capite che insomma non è poi facile poter coprire anche i loro turni. A Perugia Palazzo dei Priori è rivoluzione dei funzionari e poi SOS, di questo vedremo anche un servizio, filiera del tabacco, il grido dei lavoratori. Andiamo al dorso regionale del messaggero che ci dà questa notizia. Abbiamo visto anche dal nazionale come Omicron ormai come variante Covid sia quella più diffusa, lì si parlava di un 81%, ebbene nella regione Umbria Omicron è al 93,3% e la regione resta in fascia bianca. La fotonotizia è dedicata allo sport, fere dominio dell'Ascoli e poi ancora dal messaggero insulti omofobi sui social, umiliato un ragazzo di 18 anni a chi accade a Perugia o pianto troppe volte senza avere alcuna colpa, alla fine il ragazzo denuncia e ha fatto benissimo. Assisi trovato in giardino e scambiato per un ladro, è accaduto anche questo, ve la racconteremo nella cronaca locale. E poi Covid e crisi, stanziati 3 miliardi 700 mila euro con garanzia pubblica, scusate, 3 miliardi 700 milioni con garanzia pubblica. E poi Monteluce rimesso indietro l'orologio, ci sono almeno altri tre mesi per il suo salvataggio. Queste sono le pagine, i dorsi regionali, allora andiamo ad approfondire alcune delle notizie dalle pagine interne partendo da La Nazione. L'Umbria rimane in zona bianca, i ricoveri il 40%, non ha patologie Covid, rallenta la curva dei contagi, in tanti arrivano in ospedale e lì scoprono di avere il virus, sostanzialmente prima non se ne erano nemmeno accorti. La situazione peggiore attualmente in Umbria è quella del Ternano dove l'incidenza è di oltre 2.700 casi. E poi vaccini, altre scuole sono coinvolte, 10 intanto le classi che sono finite in isolamento. Che cosa vuol dire altre scuole coinvolte? Che oltre all'esperienza maturata nell'area del Lago Trasimeno ci saranno anche altre scuole dove verrà effettuata la vaccinazione dei minori. Ospedali, il Covid ferma 551 sanitari che sono in isolamento o quarantena, questo chiaramente rende ancora più difficile operare. E poi i Novax, il rischio rianimazione per loro è 47 volte più alto dei vaccinati. Ancora per le pagine della Nazione si guarda il turismo, qualcosa si muove, parlano le guide turistiche, la ripresa è ancora lontana, tante le presenze in Umbria nonostante la pandemia è andato bene. Secondo le guide turistiche il Capodanno c'è stato un vero e proprio crollo per l'epifania. E poi la notizia di cronaca del giorno, quindi la leggiamo qui, insulti omofobi a un diciottenne. Adesso basta, a dire adesso basta, basta è l'associazione Onfalos che dice intervengano le istituzioni, si riattivi l'università con la ricerca sul bullismo nelle scuole Umbre. Questa vittima, un ragazzo di 18 anni, ha subito per tempo insomma delle angherie di compagna, al fine ha deciso di denunciare la cosa, fa male, è una violenza e non è giusto, smettetela, vi prego. Insomma mi sembra che l'appello sia di per sé stesso anche accorato. Doni ai pazienti del Chianelli fatti a mano dalle detenute di Perugia e Spoleto. E poi passiamo al messaggero che, come abbiamo visto dalla prima pagina, ci annuncia che Omicron, la variante Omicron in Umbria è al 93,3%, ma è meno letale. L'Umbria dunque rimane bianca. E poi si parla di rifiuti dopo la presentazione da parte della Regione del Piano Regionale dei Rifiuti con la prospettiva di un ampliamento attualmente delle discariche. L'Auri ha dato il via libera ai flussi, cioè dove devono andare e in quali discariche i quantitativi di rifiuti che devono essere smaltiti. Auri dà una mano a Foligno il piano dei conferimenti solo per sei mesi in attesa del via libera della Regione all'ampliamento delle discariche. Ancora per le pagine di interesse regionale, sempre dal messaggero, si parla di aiuti alle imprese per la crisi scatenata dal Covid. Sono oltre 3 miliardi che sono stati messi in campo. E poi agricoltura, la sfida sta nella qualità dal PSR, pagamenti per oltre 100 milioni, ovvero dal piano di sviluppo rurale. L'assessore Morroni dice che le parole chiave sono competitività, innovazione e sostenibilità. Il Corriere dell'Umbria sul Covid ci annuncia 40 mila dosi in più di vaccino per accelerare proprio le vaccinazioni. Il 13 gennaio si è avuto il record delle inoculazioni con 11.741, sono davvero tante. E poi il Covid a scuola, le classi in isolamento, sono salite a 14 in 5 giorni, in attenzione oltre il 37. E poi l'Umbria resta in zona bianca, questo l'abbiamo già ampiamente letto. 540 operatori sanitari si sono infettati sulle liste d'attesa per le prestazioni extra Covid. L'assessore Coletto ha detto 35 mila prestazioni erogate dal 30 novembre. Ricordiamo che ce ne sono molte che sono rimaste indietro. Anche il Corriere ci ricorda che oltre 3 miliardi di euro di prestiti garantiti sono andati in Umbria al salvataggio di 45 mila aziende messe in difficoltà dal Covid. E poi col diretti, bene il Tar sulle zone vulnerabili ai nitrati. Il Tribunale ha raccolto la domanda di alcune aziende, prevedendo la sospensione della deribola regionale. E poi Morroni, l'assessore regionale all'agricoltura, che accelera su agricoltura competitiva e sostenibile. Questo per le pagine di interesse regionale. Tra poco andremo a vedere un servizio, perché abbiamo visto che uno dei temi all'ordine del giorno parla di tabaccolo. Vedremo un servizio su questo. Intanto le home page dei principali siti internet. Curva, questa è Umbria 24, curva rallenta, chiaramente la curva epidemica. L'Umbria resta in zona bianca, fine quarantena, test gratuiti dai privati. L'analisi del nucleo epidemiologico, siamo vicini al picco. L'R Conti ieri era a 0,90, oggi la cabina di regia nazionale. E poi Perugia Today, che titola aperitivo sotto il tendone senza green pass, arriva la polizia multata e denunciata. Ma lei riprende tutto e dice sono all'esterno, siete in torto. Queste sono cronache di quotidianità di chi è alle prese con i green pass. E poi tutt'oggi.info, che anch'esso fa il quadro della situazione con l'infografica sulla situazione Covid, no vax, solo il 4,7% degli Umbri over 50. Ovvero sapete che ora c'è l'obbligo vaccinale per gli over 50. In Umbria questa cifra di over 50 non vaccinati è il 4,7% della popolazione. E poi ancora dalle home page dei siti internet andiamo a trgmedia.it che ci ricorda come oggi a Gualdo Tadino sia la festa del patrono Beato Angelo. Allora noi già da adesso ve lo diciamo alle 11.15 collegatevi in diretta per il pontificale che vi trasmetteremo dalla Cattedrale di San Benedetto. Stamattina 11.15 circa, dipenderà chiaramente esattamente da che ora inizierà la funzione religiosa. Allora con questo apriamo lo spazio alle pagine locali, in particolare saliamo in Alto Tevere con il grido d'allarme del mondo tabacchicolo che si trova in difficoltà ma che vuole continuare a svolgere un ruolo centrale, importante per l'economia non solo dell'Alto Tevere ma in generale Umbra. Vediamo. A rischio 300 posti di lavoro e tutta una filiera, quella del tabacco, che nell'Alto Tevere conta un'incidenza occupazionale di circa 2.500 unità. Si alza da città di Castello il grido di allarme di TTI, FAT, RSU e di AgriCooper che hanno manifestato in un'assemblea generale le preoccupazioni per il futuro del settore. Dopo la decisione della società JTI, Japan Tobacco International, di spostare dalla prossima campagna produttiva la lavorazione del tabacco greggio presso lo stabilimento del Tafina di Bastia Umbra, lavoratori e sindacati hanno lanciato l'SOS alle istituzioni confidando in un loro intervento immediato affinché possano trovare una soluzione per mantenere il processo produttivo nel TTI e preservare i posti di lavoro a rischio. Al loro fianco i sindaci dell'Alto Tevere. Le maestranze attraverso questa riunione hanno rivendicato e rivendicano giustamente le preoccupazioni rispetto alla criticità del settore della tabacchicoltura. una fase di trasformazione commerciale, di rapporti che vede l'Alto Tevere preoccupato perché da un lato c'è l'aspetto dei prezzi che devono essere riconosciuti al mondo dell'agricoltura di questo settore, che devono essere competitivi ma al tempo stesso devono garantire anche la capacità delle aziende di avere un reddito che ha sempre caratterizzato storicamente su questo territorio un indotto economico importante. dall'altro ci sono le maestranze, i dipendenti che con il loro lavoro, con il loro impegno garantiscono un importante reddito alle famiglie del nostro territorio. I lavoratori rivendicano le proprie capacità professionali, la loro attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale e il loro impegno per la crescita della filiera e del territorio. Se chiude la trasformazione salta tutta l'organizzazione, scrivono in una nota e verranno a mancare oltre 60.000 giornate di lavoro. A noi lavoratori sembrano assurde ed incoerenti certe decisioni che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto a quella di incrementare il lavoro e ridurre le forme di assistenza. Apriamo le pagine locali, siamo al Corriere dell'Umbria, siamo a Perugia, Monteluce, ok al piano da 7 milioni, il fondo AMCO si impegna a subentrare alla banca tedesca che ha detto no al risanamento del comparto. E poi siglata l'intesa con la fondazione ITS Umbria, nuova vita per l'ex Scalo Merci a Tordo sul centro di grafica. L'abbiamo già letto nelle pagine regionali, quindi leggiamo solamente il titolo Insulti omofobi a un diciottenne a Perugia, il giovane denuncia su Instagram Smettetela di fare del male gratuito alle persone solo perché diverse. Questo il suo appello. E poi anche questo l'abbiamo in qualche modo intravisto nelle pagine regionali siamo sempre a Perugia, caffè e baglioni, il nostro cocktail si chiama Super Gym Pass l'idea del barista che vedete nella foto e poi a Ponte Felcino l'URP chiuso senza preavviso la Lega Pensionati dice solo un cartello per comunicare l'interruzione temporanea del servizio In basso, posto giusto raddoppia, a febbraio arriva il nuovo locale dalla focaccia ai mini pancake farciti, la formula del fast food made in Italy Ci spostiamo a Passignano sul Trasimeno dove la raccolta differenziata è al 70% è uno degli obiettivi centrati nel 2021 dall'amministrazione guidata dal sindaco Pasquali e poi a Castiglione del Lago allevamenti zoctecnici la Fratelli d'Italia attacca il comune e il gruppo consigliare accusa l'amministrazione di non rispondere ai cittadini e a Castiglione del Lago nasce una guida su qualità e sicurezza per le menze scolastiche Andiamo nel territorio di Assisi e Bastia, esattamente ad Assisi la ciclabile, la pista ciclabile Assisi-Spoleto ancora da completare senza manutenzione la questione è finita in consiglio regionale e poi la polizia denuncia un 72enne trovato nel giardino di un privato già nota alle forze dell'ordine, aveva un foglio di via per tre anni a Bastia Umbra progetto di rigenerazione urbana, aderisce la scuola Antonietti i studenti di sei classi partecipano ad un concorso europeo e poi ci spostiamo nel territorio di Todi dove ricordiamo si attendono le elezioni amministrative PD strizza l'occhio alle liste civiche, serve una coalizione il segretario Magni, unica strada per fare il bene della città e poi Montemolino dopo dieci anni finalmente una soluzione la consigliera regionale Peppucci sottolinea l'importanza degli interventi di consolidamento del ponte ancora Todi protagonista oggi pomeriggio sull'emittente Rai 2 e ancora Damarciano tutto pronto per la stagione di prosa al teatro Concordia sul palco il 27 gennaio anche due artiste marscianesi Ilaria Falini e Caterina Laura andiamo in Alto Tevere e qui consentiteci anche un ricordo personale è morto il preside Sergio Polenzani fu vice sindaco con Angelini attivo nell'associazionismo storico dirigente del liceo il sindaco Secondi innamorato della città della sua gente è stato per tanti anni anche un eccellente collaboratore amico di TRG in particolare della sede Tifernate di TRG quindi chiaramente il pensiero a questa persona straordinaria e anche alla sua famiglia da parte di tutta l'emittente e andiamo a Pieve Santo Stefano e 45 sicura 17 mila firme da presentare a Draghi questa mattina alla manifestazione di alcuni sindaci sul viadotto del Puleto sequestrato tre anni fa ancora Don Giorgio torna a benedire i cellulari ma stavolta da remoto originale celebrazione in diretta Facebook del parroco di nuvole e poi restando sempre in Alto Tevere ma ci spostiamo ad Umbertide accesso al Tevere lavori completati pavimentazione in pietra e nuova illuminazione l'assessore Villarini dice la giusta veste per una delle vie più belle ancora il tabacco abbiamo già ampiamente visto il servizio il sindaco di città di Castella a fianco dei lavoratori e poi restando ad Umbertide il comune cerca otto volontari per il servizio civile ci spostiamo a Gubbio vandali ancora in azione bagni pubblici presi di mira i ride ripetuti nel tempo intanto la Lega chiede chiarimenti su questo servizio e poi controlli delle forze dell'ordine nel fine settimana sono stati disposti dal questore con polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale ancora famiglie in difficoltà economica un tavolo tra comune di oggi per gestire 100.000 euro di aiuti sempre da Gubbio nuovi distributori di acqua a Padule e Mocaiana la vice sindaco Tasso annuncia che i lavori inizieranno lunedì ci spostiamo a Gualdo Tadino la pista ciclabile è chiusa per lavori entro primavera l'esecuzione di interventi per 250.000 euro fine settimana di sport invernali alla Val Sorda oggi e domani le piste per sci da fondo e poi come dicevamo la festa del Beato Angelo ricordo ancora la diretta di TRG alle 11.15 di stamane a Nocera servizio civile disponibile un posto in comune e poi andiamo a Foligno palestra di Viale Marconi parte la gara d'appalto dopo la decisione di demolire l'impianto di via Nazario Sauro è stato approvato il progetto esecutivo per il nuovo complesso l'appuntamento lunedì la fiaccolata per San Feliciano promossa dalla Diocesi e dal CSI con la testimonianza della campionessa di tira al volo Fiammetta Rossi in basso ospedale smantellato stop anche al servizio di terapia del dolore l'interrogazione sull'argomento del consigliere regionale Donatella Porzi riguarda l'ospedale San Giovanni Battista ancora sempre dal Foligno presenze in consiglio Cesaro Top e Silvestri il più assente in aula la classifica dei politici su 16 sedute dello scorso anno Madonna del Pianto celebrazioni divise per unità pastorali domani la messa presieduta dal Vescovo Sorrentino e poi Trevi dal comune 80 mila euro per sostenere le aziende e ancora da Trevi i ragazzi a caccia dei tesori e dei capolavori del museo ripartono i laboratori didattici al complesso di San Francesco ci spostiamo andiamo a Spoleto tamponi a Santo Chiodo stop al caos traffico l'esercito si occuperà dei tamponi antigenici martedì giornata senza acqua in centro a Spoleto e poi vaccini e bambini l'azienda sanitaria apre due nuovi hub per gli under 12 che verranno somministrate somministrati vaccini al Palatenda e nelle peste di Caster Ritaldi ancora da Spoleto come San Ponziano riconosciamoci comunità e superiamo l'arroganza il monito di Monsignor Boccardo durante la messa per il patrono e poi l'istituto alberghiero De Carolis apre le porte a studenti e famiglie domani open day in vista delle iscrizioni alle scuole superiori troppi contagi da covid annullato a Spoleto il fauna 2022 andiamo a Terni svuota il conto dell'amica disabile è denunciata la 73enne di Giove che usava il bancomat della vittima con prelievi per decine di migliaia di euro leggiamo qui questa notizia poi la troviamo in tutti i quotidiani ma magari la dettagliamo qui e poi andremo un po' più velocemente siamo a Giove quindi siamo nel Ternano è accusata del reato di circonvenzione di incapace una donna di 73 anni che giovedì mattina è stata denunciata dai carabinieri la 73enne secondo l'accusa ha svuotato il conto della vittima approfittando della sua amicizia le donne si conoscevano da anni erano entrate in confidenza al punto che la pensionata poteva usare a suo piacimento il bancomat dell'amica quest'ultima 65enne è affetta da una grave disabilità che non le permetteva di badare a se stessa si fidava dell'amica e secondo l'accusa questa lì avrebbe svuotato il conto ancora finta assicurazione troffata una donna una giovane marocchina raggirata da tre campani e poi a Castelgiorgio sicurezza sul lavoro sanzionata una casa di riposo a Calvi dell'Umbria sette furti in tre settimane nelle villette della zona residenziale e poi siamo a Terni Mattatoio il comune in pressing sulla regione in particolare l'assessore ricorda che l'area è stata già individuata ma che i bandi sono andati deserti siamo stati lasciati soli risponde Mela Secche basta con gli atteggiamenti rinunciatari turni massacranti e rischi di contagio per i farmacisti lo denunciano i sindacati sul mondo del lavoro in farmacia lavori sulla rete idrica sono previsti dei disagi a Terni e poi parliamo di AST proclamate due ore di sciopero la denuncia delle RSU gravi difficoltà organizzative all'interno dei reparti dello stabilimento a Piediluco un ride vandalico per le vie del borgo danneggiate anche barche e biciclette e poi andiamo nel territorio di Narni Amelia ed Orvieto da Orvieto politica distante dalla realtà sociale duro attacco del presidente del consesso civico ai colleghi consiglieri manca una programmazione a lungo termine si cerca visibilità sui giornali e sui social prima di presentare in aula mozioni e interrogazioni una vera e propria bacchettata a Baschi sicurezza via libera all'installazione di nuove telecamere e poi a Narni i fondi del PNRR il comune a bocca asciutta per cinque progetti questo era il Corriere dell'Umbria andiamo alla Nazione le sue pagine locali che ripartono da Perugia e con il sindaco Oromizi che annuncia la riorganizzazione dei dirigenti comunali Palazzo dei Priori rivoluziona il quadro di funzionari diventa centrale la struttura per i progetti europei e le relazioni internazionali la Corte dei Conti trasloca avrà sede in via Baglioni Accordo e operazione da 5 milioni e poi da tutto Perugia ex scalomerci la rinascita spazio ai laboratori high tech Accordo tra Comune e ITS Umbria la palazzina di Fontivegg ospiterà un centro di arti grafica avanzate una postazione digitale del municipio dall'Università degli Studi il professor Biasini nominato addetto scientifica Washington e poi tanta guria nonna Anita 101 anni vaccinata senza problemi ben 13 i nipoti la nuova scuola a Paciano diventerà realtà qui siamo appunto a Paciano quindi area trasimeno indirittura d'arrivo i lavori per l'infanzia fino a 6 anni il dirigente Casucci un progetto altamente innovativo da 170 mila euro a Castiglione del Lago in scena il quartetto d'archi con frate Alessandro la famosa voce di Assisi e poi dalla legalità al fair play sportivo al via le iniziative del Buncaneve a Panicale ci spostiamo andiamo ad Assisi un intruso nel giardino di una casa viene denunciato il proprietario vede un uomo sospetto avverte la polizia era lo stesso che poco tempo fa aveva rubato in un albergo a Bastia Umbra un altro decesso per coronavirus e poi a Castelnuovo il comune più controlli sulla strada provinciale 410 lo chiede l'amministrazione comunale Todi come abbiamo detto domani su Rai 2 nella puntata di Stop and Go ancora dalla Nazione andiamo nel territorio di Gubbio e parliamo di servizio civile ci sono 40 posti a disposizione a Gualdo la festa del patrono Beato Angelo a Nocera primi ingressi a Villa Salmata questa casa per anziani inaugurata di recente in Alto Tevere l'SOS del tabacco che vi abbiamo raccontato nel servizio a rischio centinaia di posti di lavoro viabilità necessario ripristinare la ex strada tiberina Trebis dal Puleto si leva l'appello dei sindaci e poi l'ultimo abbraccio al professor Franco Nestri ha fatto amare la storia e la filosofia a tanti studenti anche il cordoio di Anna Ascani Lutto la città lo abbiamo visto piange a città di Castello il preside Polenzani e poi a Foligno ex OGR 30 assunzioni entro la fine dell'anno Ciancabilla della FIT CISL scusate la prospettiva dice appare concreta consentirà di riportare il numero degli addetti a livelli di prepandemia Massatani la bottega dei golosi nella guida del gambero rosso e poi terapia del dolore il PD a Foligno va all'attacco dopo lo stop al servizio al San Giovanni Battista San Ponziano ieri era giornata di festa a Spoleto proteggici dal covid si ritrovi la coscienza di comunità questo l'appello del vescovo incontri con i big tra scienza e letteratura a Foligno e poi pista ciclabile serve a Spoleto subito un gestore a Terni le farmacie pubbliche sono allo stremo lo dicono i sindacati condizioni di lavoro troppo penalizzanti e poi ruba un tesoro all'amica disabile l'abbiamo letta la storia della 73enne che viene denunciata sopralluogo agli studios cinematografici di Terni il sogno non muore il consigliere comunale Rossi ha accompagnato i rappresentanti dell'Umbria Film Commission a visitare l'area di Papigno e poi effetto bonus edilizia in ripartenza siamo ad Orvieto boom di cantieri nel 2021 presentate 316 pratiche all'asta di Terni lavoratori due ore di sciopero per ogni turno e poi per le pagine del Tempo Libero vi segnaliamo da Città di Castello Giuseppe Pambieri che racconta nota stonata accanto a Carlo Greco domani alle 17 agli Illuminati per la regia di Monio Vadia nell'ambito della stagione di prosa e poi questa era la nazione andiamo al messaggero le sue pagine locali in particolare da Perugia a Monteluce riparte la corsa i soci deliberano di allungare di altri tre mesi la vita del fondo nodino al Ministero della Cultura niente istanza per valutare il progetto fonti vegge l'anno della svolta ex Scalo Merci Hightech in 20 mesi insulti omofobi un ragazzo viene umiliato sui social e alla fine decide di denunciare lo abbiamo letto per il Chianelli arrivano regali dalle donne che sono in carcere a Spoleto e Perugia CGL all'attacco necessaria una mobilitazione territoriale e regionale la nostra regione patisce un declino economico e sociale dice la CGL inaccettabile a proposito di CGL stamani a Gubbio Palazzo Pretorio si tiene a partire dalle ore 9 per tutta la mattina il convegno organizzato proprio dalla CGL sul tema del cemento e della proposta di un distretto nel territorio di Gubbio i lavoratori del tabacco hanno paura qui siamo a città di Castello ma lo abbiamo già visto nel nostro servizio e c'è anche il ricordo addio a Sergio Polenzani a Sissi settantenne beccato di notte nel giardino di un'altra persona Gubbio le scarpe speciali fatte come un calzino la storia di un artigiano e di un creativo Diego Anastasi che si racconta in questo servizio Todi tutelare l'ospedale di Pantalla lo chiedono i comitati a difesa dell'ospedale a Umberti del PD difendere i servizi sanitari a Castiglione è stata rinnovata la segnaletica a Foligno Antares fotografa da Foligno il megatelescopio James Webb gli scatti catturati durante il viaggio dell'avveneristico strumento nello spazio è il più grande strumento mai costruito con uno specchio di 6 metri e mezzo di diametro insomma per gli appassionati di astronomia è assolutamente un argomento interessante e soprattutto gustoso Muretto di Viagori siamo sempre a Foligno l'ironia impazza spuntano agli e benji un muretto che purtroppo ha subito più di una volta la distruzione Madonna del Pianto programma della solennità siamo sempre a Foligno e poi gli ambasciatori di Festa Filosofia a colloquio con se grandi intellettuali da Spoleto stop a schermagli e demagogia questo è stato l'appello lanciato dal Vescovo Boccardo ieri in occasione del Patrono screening scuole anche dopo il rientro e poi ci si parla già di sport nella pagina di Spoleto promozione per la Superga 48 la selvezza serve in ogni modo andiamo e chiudiamo con il Ternano farmacie comunali KO metà dei dipendenti in quarantena i sindacati protestano Santa Maria Novax non si pente viene sospeso un operatore tecnico in forza alla farmacia dell'ospedale di Terni non si vuole vaccinare Piediluco sotto attacco caccia un gruppo di vandali e poi furti a ripetizione in città ovvero a Terni sono state visitate anche le case dell'Ater una maestra aggredita a caso vicino alla svolta l'ho ricordato l'abbiamo raccontato qualche giorno fa quella maestra che faceva Jogging che è stata aggredita per strada dietro al violento pestaggio ci potrebbero essere i rapporti tesi della donna con i familiari di un suo ex alunno Giove truffa ad un'anziana disabile ma già l'abbiamo raccontato l'amica che con il bancomat svuota il conto corrente di una compagna di vita diciamo così di un'amica di lunga data Petrux e qui parliamo già di sport motociclismo il re del deserto non si ferma ed è pronto ad accettare nuove sfide il filota ha portato a termine la prima Parigi Dakar con una vittoria storica questo in qualche modo già ci apre allo sport cosa di cui ci occuperemo tra poco vedremo anche i gol che sono stati protagonisti nella partita Ternanascoli terminata per gli Ascolani 2 a 4 a tra poco un po' Grazie.